Iniziamo anche il nostro concetto con un medico di marce americane che porta il titolo di America Marcia e Time, le migliori marce americane. La maggior parte del quadro è composta da Galilea Marche, John Phillips Susa. Tra le sue composizioni più famose, stelle e striscine del 1896, nonché la marcia nazionale degli Stati Uniti. Susa non fu soltanto un compositore ed elettore straordinario, ma diede un contributo fondamentale allo sviluppo della musica per barba e del concerto stesso di barba. Nel 1892 riformuava sua barba, adesso di sottendere, la migliore barba professionale degli più esseri. Le sue oltre 300 composizioni sono ancora oggi tra i migliori segni di musica originale per barba. A voi un impregio di siti di barbi di marce americane, diretto dal nostro maestro Giulio Dottetto. Grazie. Applausi. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.